Terza giornata di Academy. Siamo in compagnia di Maria Grazia Calandrone, scrittrice, poetessa, intellettuale di grande spessore. Il suo intervento oggi è stato un viaggio tra parole, poesia e impegno sociale, un'occasione imperdibile per le aspiranti miss per ascoltare e dialogare con una delle voci più influenti della letteratura contemporanea. Il suo intervento oggi ha coinvolto le ragazze anche in un esercizio di scrittura. Avete parlato di bellezza, del significato del concetto di poesia? Sì, sì, io sono molto grata a queste ragazze perché si sono messe in gioco moltissimo. Si sono commosse, hanno pensato, hanno raccontato le loro esperienze interiori, anche le loro esperienze biografiche in alcuni casi e credo che questo sia quello che deve fare la poesia, cioè metterci in contatto, come dicevo durante appunto la mia conversazione con le ragazze, metterci in contatto con la nostra parte nella quale noi somigliamo agli altri. Quindi c'è stato questo scambio di pensieri, sentimenti, riflessioni, esperienze che credo che sia importante come un controcanto alla solitudine e all'odio che ci viene instillato quotidianamente dalla politica. Le ragazze hanno appunto scavato nelle loro emozioni, nei loro sentimenti, hanno parlato anche di depressione ma anche di speranza e di romanticismo. Sì, sì, guarda, sono stata molto contenta del fatto che non erano finte, non sono mai state un ruolo, non hanno mai avuto, non mi hanno mai dato l'impressione di avere, di dover ricoprire un personaggio. Mi sembra che siano state tutte sempre assolutamente in contatto con se stesse e capaci di mettere a disposizione questa parte di loro con le altre. Quindi mi sembra che abbia funzionato come doveva. Poi è chiaro che non, no, questo l'ho ripetuto più volte, non si scrivono poesie su commissione in dieci minuti. Però si può cominciare a manipolare lo strumento in modo che diventi un canale fluido verso gli altri fondamentalmente. Inoltre partire da grandi autori del passato, quei Leopardi, poi Alda Merini, è stato anche un viaggio attraverso i social, quindi abbiamo anche parlato di TikTok. Sì, TikTok di cui ho scritto appunto nell'ultimo libro come l'ultimo cascame, la deriva della televisione degli anni Ottanta, che parcellizzava il corpo delle donne con i primi programmi delle televisioni commerciali, che la mia generazione pensava fossero delle esperienze ormai superate, altre passate dalla cultura di massa. Invece così non era e TikTok fa questo, mette le ragazze e ragazzi su un permanente palcoscenico sottomesse al numero di like e bidimensionali, cioè si perde proprio lo spessore, si perde il contatto con la realtà e nello scorrere, nello scrollare continuamente si perde l'idea, il concetto, la sensazione biologica del futuro e quindi il tema finale, che io avevo dato il verso finale di queste poesie che loro dovevano scrivere, di questi esercizi era proprio il futuro, cioè mi sembra che sia un tempo che va recuperato assolutamente. Un consiglio e un augurio per le aspiranti Miss? Leggere, leggere, imparare lo sguardo critico sulla realtà per poter essere libere. Grazie. Grazie.